Prima di riportarvi le anticipazioni dell'episodio, che andrà in onda martedì, smentiamo a prescindere un nuovo cambio di orario, secondo svariati siti il segreto a partire da lunedì 7 luglio avrebbe dovuto cambiare fascia oraria, ma controllando il palinsesto mediaset abbiamo avuto la conferma che la sua popera spagnola andrà in onda ancora alle ore 19, adesso procediamo con le anticipazioni della prossima puntata, ormai è ufficiale, che Peppa Aguirre è incinta, ad averne la conferma anche suo marito Tristan, che scoppia dalla gioia, ragion per cui tra i due ritorna il sereno e si riconciliano preparandosi alle ostilità del paese, soledade Juan Castaneva, ancora una volta, si incontrano in segreto, all'oscuro dagli occhi di tutti, nel frattempo il farmacista Manuel sta mettendo su un squadra di uomini per far uccidere il Castaneva, Ippolito ha le prese con i dadi, perde contro Ruperto, invece Olmo Mesia e Donna Francisca Montenegro giocano sporco, tanto per non cambiare, e fanno di tutto per mettere la dottoressa Gregoria Casas contro la levatrice Peppa Aguirre, intanto Fernando Mesia è malato e sua madre Isabella esce a comprargli le adeguate medicine soltanto che non fa più ritorno, cosa le sarà accaduto, lo scopriremo nel corso della puntata. Grazie per la visione!